Benvenuti nel canale Melimade in Sud Non avevo stamattina intenzione di girare Nessuno svuota la spesa Ma siccome stamattina ho preso qualcosina Ho pensato Ma perché non condividere quello che ho acquistato Più che altro per tenerci compagnia Ed ecco lo svuota la spesa Vi ricordo che mi trovate anche su Instagram Con il nick melimade.insud E adesso inizio con lo svuota la spesa Vi faccio vedere prima qualcosa che ho preso da Eurospin E poi in uno dei classici supermercati di marca Allora, come novità della Tremolini È uscito il filone integrale Lo so, devo girare il video Andiamo insieme da Eurospin Per scoprire tutte le novità Peraltro ci sono tantissime novità da Eurospin Ma in questi giorni non ho avuto letteralmente tempo Allora, della Tremolini è uscito il filone integrale Con semi e noci Con farina 100% integrale Fetta spessa, ricco di fibre Confezione da 500 grammi Questo è il pane Ok Allora È prodotto Da due aziende Una si trova ad Alessandria E un'altra In Abruzzo Non si legge molto bene Comunque poi mi informo E magari vi metto qui Le aziende Allora La lista ingredienti abbiamo Farina integrale di grano Tenero 54% Acqua Semi di girasole 7,3% Olio extravergine d'oliva 2,5% Lievito Glutine di frumento Noci 1,8% Destrosio Semi di zucca 1,4% E sale Trattato con alcol etilico Per ovviare il fastidioso diciamo sentore di alcol etilico Che peraltro serve necessariamente per conservare questo prodotto Tranquilli che non è nessun ingrediente malefico Io tosto il pane Semplicemente Ma non è solo per una questione di smorzare l'alcol etilico Di farlo evaporare Ma è proprio una questione di sapore Cioè a prescindere anche se non ci fosse a me piace proprio tostare Che sia il pane in cassetta che sia il pane classico Vedremo com'è Sembra fatto molto bene E sembrano esserci abbastanza semi al loro interno Mi riferisco ad ogni singola fetta Ok Poi ho ripreso Diamo essere eccellente gli spaghetti Pasta di gragnano Cottura 11 minuti Confezione da 500 grammi Poi questi li ha presi Giulio Ne ha prese due o tre confezioni Lui li adora Peraltro sono prodotte dalla Parmareggio Colui che ha messo sul mercato questa tipologia di snack All'interno avete il parmigiano reggiano Il frullato e i grissini Questi qui ve li ho fatti scoprire appena sono usciti Poi Queste sempre le ha prese Giulio Giulio Cesare Questi andranno in cantina Perché altrimenti ho detto tutto Ammo fatto un immobile solo sazze Sanno sazze Ma che cattammo fa tutta sta roba Come soffro La burger non è la mia preferita Ma ad Eurospin questo trovate Signore Eurospin Incentivi La formazione E la costruzione Di salse Più Eh Oh Poi Allora Silvano ha preso Il capocollo piccante Ci si fanno Io capocollo piccante Capocollo piccante Reparto della salumeria dei freschi Charlie Send l'ador Ricorso Eh Poi Specca alto adige IGP Sempre al banco dei freschi Poi ha preso il pollo Queste sono molto buone Sono dei fusi di pollo Aromatizzati La porchetta Ariccia È una specialità Che si trova durante Solo ed esclusivamente Le feste natalizie Come per il formaggio Al tartufo Vi ricordate? Vi mostrai il formaggio al tartufo Ecco Sono dei prodotti Che si vendono Solo diciamo In questo periodo Il salumiere Mi ha detto Perché Sono dei prodotti Diciamo Più ricercati Che hanno un costo Più elevato Di conseguenza Le persone Non sono disposte A spendere Di più Tutto l'anno Ma solo In determinate Circostanze Per cui A loro Non conviene Trattare Sempre Perennemente Questi prodotti Per cui Li fanno ricadere Solo ed esclusivamente In determinati mesi Dell'anno Altra cosa Che voglio dirvi Le candele In giara grande Quelle a 5,99 Sono entrate Definitivamente In linea Permanente Ho preso Una bottiglia Di alcol etilico A 90 gradi Poi Questi gliel'ha presi Sibana 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 Cipiglia Perché Siccome Charlie È abituato a mangiare bene Peraltro Vi ho fatto vedere Proprio oggi Su Instagram La spesa Che ho fatto Per Charlie Lui è abituato A mangiare No bene Da re E quindi Non lo so Quando gli prendo Delle cose Più No Comunque Di Radam Snack Ripieno con formaggio È un alimento complementare Ve lo sottolineo Da 60 grammi E poi ha preso Salmone Trota E aringhe Io ho i miei dubbi Poi in cassa Trovate Delle edizione Natalizia Trovate Ma io non ho giupiato Perché è edizione natalizia L'ho giupiato Perché volevo sentire il profumo Sono in formato 3D In quanto sono più spessi Trovate vari aromi Per profumare La macchina C'erano anche le palline Però a me piaceva di più Il fiocchetto di neve E Ah Sono sia per la casa Che per la macchina Trovate proprio il simbolino Qui Aspettate Non ci fate caso Ma ho le mani completamente disastrate Ok La profumazione Cinnamon Quindi alla cannella Peraltro La confezione è chiusa E l'odore si sente Ma tu che fai? Tu che fai? Ora avevo pulito Ora devo pulire Eginizzare E disinfettare Un'altra volta? Ma com'è già fa? Com'è già fa? Com'è già fa? Mammi Quelli avitami Poi Ho preso Una confezione Di linguine Pasta di Gragnano Tre mulini Le nostre stelle Fate attenzione Perché Praticamente La linea Le nostre stelle Tre mulini Sta diventando Amo essere Eccellente Peraltro Ho notato Effettivamente La differenza Tra le due paste La versione Poi ho preso Queste le amo Follemente Le salviette detergenti Per cani Gatti E cuccioli Odor control Dermatologicamente testato Con aloe vera 50 pezzi Le salviette Sono 21x28,5 cm Sono eccezionali Veramente Molto molto buone Poi Giulio l'ha visto In casa Ma ha detto Mamma me lo prendi 2 in 1 Shower gel E shampoo 400 ml Praticamente È un prodotto Che si può utilizzare Sia per detergere Il cuoio capelluto Sia per detergere Il corpo A forma di Peppa Pig Che peraltro Sa di fragola Non mi fa impazzire Il profumo Vedremo Peppapig.com Di Hasbrons Girls Questo qua Ma Non lo so A me Allora È un misto Tra fragola E ciliegia Ma è un odore Che mi ricordo Che Associo Avete presente Avete presente Lo sciroppo Per i bambini Mamma mia Ma è brutto E poi Ho preso Di Sial 98% Di ingredienti Di origine naturale Il sapone ecologico Per bucato In gel Concentrato Con olio d'oliva Questo è Veramente ottimo Peraltro Io non lo utilizzo Solo per lavare i capi In lavatrice O a mano Ma lo utilizzo Per pulire Diverse superfici Mi piace Moltissimo Allora Da Eurospin Ho preso Ah e poi ho preso Una tazzina Aspettate Come vi ho mostrato Tempo fa Anche su Instagram Da Eurospin Trovate la linea Disney Per quanto riguarda Le borracce Le tazze Piatti Le tazze più piccole Quindi quelle da caffè Insomma C'erano veramente Tantissime cose Anche i piatti in carta E tovaglioli Era l'ultima Era l'ultima E ho detto No Me la devo prendere Sul retro Trovate Questa Questa scritta Sunshine is a vibe Come posso tradurla Il sole è Un'atmosfera È atmosfera Ed è proprio originale Disney Home Infatti ha Anche la certificazione E potete metterla Tranquillamente Sia a microonde Che in lavastoviglie Perché ci sono qui I simboli Vedete ci sono proprio I simbolini E sotto C'è la scritta Home Disney Con anche Il logo Registrato Disney Queste sono Molto molto Carine Allora vi dico Ah Dimenticavo Ho preso Un'altra scatola Di cioccolatini Della Dolciando Queste sono bellissime Sono quelle scatole Che vanno a riprodurre I quadri Famosissimi Questa è Spettacolare E all'interno Ci sono Peraltro È uno dei dipinti Che preferisco In assoluto O meglio Del pittore Che preferisco In assoluto La confezione È da 250 grammi All'interno Avete Uno Due Tre Quattro Tipologie Di cioccolatini Assortite Adesso vi dico I prezzi Allora Poi ho preso Anche la carta igienica 3,49 Poi Silvana ha preso La confezione Di coca 4,14 Il bagno Schiuma 3,99 Poi Giulia Poi Sapone ecologico Di Sial 1,29 Io ve lo faccio vedere Perché siccome In passato Io ho collaborato Con Sial Magari qualcuno Vu Eccolo qua Vedete Ok Che sono una persona Molto trasparente Poi ho preso I nuggets Di pollo 3,19 Salvetti Animali 2,09 La porchetta 9,44 Si lo so Costa uno stonfo Snack Per gatti 75 centesimi Anche l'altro La merenda Snack 89 Deodoranti 3D 1,29 L'alcol 1,99 E' aumentato Di brutto L'alcol 1,99 Costa tantissimo Costava 1,19 Allora Prima della pandemia 99 centesimi Poi passò A 1,19 Adesso è passato A 1,99 Linguine Mezzo chilo 1,09 Gli spaghetti 1,09 La tazzina Da caffè 3,99 Fusi di pollo 8,85 Salsa burger 1,19 Speccalto Adige 3,39 Il capocollo piccante 2,09 La scatola Di cioccolatini 4,29 Invece il filone Di semi Con noci 1,99 4 cose 66 euro Vabbè Poi Passiamo al supermercato Quindi sono tutti i prodotti Di marca Ho preso In offerta Ma scusatevi Ho fatto traballare In offerta L'acea candeggina C'era la confezione Con le due Ace Ogni confezione Da 3 litri Quindi sono 6 litri E le ho pagate Non mi ricordo Comunque ho lo scontrino Dopo vi dico I prezzi Poi Ho ripreso Le pink Vi dico Ho ripreso Perché La settimana scorsa Credo giovedì Ho girato su Instagram Un po' di stories Vi ho fatto vedere La spesa Che ho fatto Per questi giorni festivi Tra cui Le pink lady Le ho ricomprate Perché sono Le nostre preferite In assoluto Sono la fine del mondo Se non l'avete mai provate Compratele Perché sono squisite Poi ho preso Il latte Alta digeribilità Di Treballi Senza lattosio 100% latte italiano Della Vibi Leggero La linea Mi riferisco Questo qui Lo cercavo fresco Ma senza lattosio Non c'era Fresco E quindi ho preso questo Poi Un mix In realtà No Questo non è un mix Questo a base solo Di mais gigante Tostato Da 120 grammi Per i nostri aperitivi Restate sintonizzati Perché domani Uscirà proprio un video Sugli aperitivi Poi Di Orogel L'aglio Già tritato Adoro Inoltre Ho preso Ho ripreso L'Apermix Questo ve l'ho fatto vedere Proprio su Instagram È buonissimo Sempre per gli aperitivi Poi Ho preso Due Yogurt Preparazione a base Di yogurt Da 120 Sono 107 grammi Di yogurt Più 13 grammi Di Smarties Questi della fruttola Uno alla Vaniglia E uno alla Fragola Per Giulio Poi Basilico Guardate C'è su basilico Guardate Io non barlo più Poi Due pacchi Queste le amiamo Sono buonissime Della Molino Bianco Le Pagnottelle Sono ancora più morbide Sono 6 panini Li potete farcire Sia con Alimenti salati Che con Alimenti dolci Esempio La Nutella O la crema novi Oppure La crema alle nocciole Al 50% Di nocciole Di Eurospin Peraltro Mi avete bombardato Avete acquistato Tutti quella crema Ragazzi Battela novi Battela novi Ma di cosa Parliamo Poi Ho preso Di Garnier Ultra dolce Shampoo Lusciante Maxi formato Ma quando vengono è un maxi formato Maxi formato è Kili 2 cross 300 ml Pao 12 mesi Shampoo Lusciante Olio di cocco E burro di cacao Per capelli Ribelli e crespi Perché non solo le cerevelle Sono ribelli Ma anche i capellanti Capelli ribelli e crespi Senza siliconi Nutre Liscia E doma Il crespo Con estratti Di origine naturale Se non l'avete mai provato Provatelo Perché Buonissimo Proprio Uno shampoo Dalla profumazione Avvolgente Inebriante E decisamente Invernale Barra Autunnale Diremo Fagarea Rob and dad E dopo Siamo consumati Poi Ho preso Avevo bisogno Di una Buona Bottiglia di vino Di Fazio Ho preso Il Nero d'Avola Denominazione Di origine Controllata Erice Fazio Anche questo qui Se non l'avete mai provato Provatelo Parola di Merima In Sud Perché è Buonissimo La confezione Da 75 CL Prodotto in Italia Ovviamente Alcol 13,5% Denominazione Di origine Controllata Nero d'Avola 2021 Viene proprio Da Erice Sulle colline Di Erice Si produce Questa particolare Uva dal nome Nero d'Avola Ideale per piatti A base di carne E con i formaggi Stagionati Servire a 14 gradi Ma io Dissento Nel senso che Lo preferisco Più freddo Qualcuno dirà No Ma non si fa Mio padre Era un grande Appassionato Di vini proprio Doc Vabbè Lasciamo perdere Poi Ho ripreso Queste non le trovo Sempre Perché sono difficili Da trovare Se le trovate Provatele Almeno solo Per una volta Perché sono La fine del mondo In realtà Sono tre Le versioni C'è la versione Allora Di Pesoforma Il cazzo Semplicemente Perché mi piace Non è Che sta scritto Pesoforma No io preciso Perché sai Com'è Agendo Fraindendo O fraindendo O soffi i film Da cirovella sui Comunque Che stai vi dice Sono tre I gusti C'è la versione Snack con cioccolato Fondente Arancia È una galletta Integrale Con cioccolato E arancia Questa è qui Per intenderci Vedete Scusate per i riflessi Queste qui E poi Ho preso La versione Con cioccolato E nocciole Sempre la base Della galletta È integrale Questa è qui Interrotto per le campane Ma le campane Continuano Stavo dicendo Sono Impacchettate Quindi sono Monodose All'interno Ci sono due gallette Invece per esempio Quelle che trovate All'idolo Oppure quelle che trovate Da Eurospin Voi aprite il pacco Escono tutte le gallette Invece qui sono Ingustate Ok Quindi si possono portare Che so In borsa O in ufficio Oppure Non so Se uscite E le potete mettere tranquilli Insomma Sono trasportabili E uno dice Sì Anche quelle In mini sacchetto Però Questa è molto Decisamente Molto più pratica Sono buone Ah L'altra versione È al cioccolato bianco E frutta Se non ero Comunque vi metto Qui l'altra versione Queste sono le mie preferite Cioccolato fondente E arancia Provatele Adesso vi dico I prezzi Allora Le due confezioni Di Pagnottelle 4,30 Peso forma Tutte e due 4,99 4,99 Ah no Sbagliato Allora Le due confezioni Di pane Per hot dog Della Molino bianco 4,30 euro Il vino Peraltro Era in offerta 4,99 Poi Le gallette Della peso forma Vengono 2,49 euro Il latte 2,70 euro Entrambe le confezioni Le altre gallette Vengono 2,49 euro Quindi lo stesso prezzo Poi il mix di aperitivi 1,99 euro Il fruttolo Vengono 99 centesimi Cada uno Il mais gigante 2,19 euro Allora In base a quello Che ho acquistato La tipologia La qualità Ho speso Meno nel supermercato Di marca Che da Eurospin Questo è quello Che ho acquistato Spero di avervi Tenuto compagnia Noi ci vediamo Al prossimo video Vi ricordo Che mi trovate Anche su Instagram Con il nick Melimade Punto In Sud Come sempre Un bacio Un abbraccio Un tarallino Dalla vostra Melimade In Sud